ma sai che ce l'ho anche io è proprio uguale ma ne sei sicuro si certo è praticamente identico cambia solo il colore adesso ti faccio vedere un paio di cose così mi dici veramente se proprio uguale vedi domino plasmoid è dotato di un software evolutissimo infatti in base alla tipologia di carico che devi trasportare è lui che decide l'inclinazione corretta ottimale e vabbè capirai cosa vuoi che cambia un angolo piuttosto che un altro non sarà mica qualche grado a fare la differenza e invece sì la differenza è tantissima e adesso ti faccio vedere meglio fare un trasporto con un angolo corretto significa lavorare in sicurezza e senza sbilanciamenti perché se lavori con un angolo sbagliato potresti trovarti in difficoltà ah ma non pensavo tra l'altro domino plasmoid è talmente sicuro che se per sbaglio ti tiri il carico verso di te i cingoli non si richiudono ah però nel mio non funziona proprio così e non è finita qui adesso ti faccio vedere cosa succede sul pianerottolo una volta che sei arrivato sul pianerottolo devi solo schiacciare questo pulsante qua vedi la stabilizzazione del carico è dotata di ruote sensorizzate che mantengono sempre il contatto con il pianerottolo e ti fanno lavorare in sicurezza eh adesso che ci penso il mio carello non anche questa funziona domino plasmoid è molto potente ma compatto infatti grazie alle dimensioni ridotte riesce a ruotare in pianerottoli particolarmente stretti e non è finita qui adesso ti faccio vedere la discesa del pianerottolo anche andando al massimo della velocità per sicurezza il sensore frontale ti ferma appena vede il primo gradino arrivati a questo momento basta premere questo pulsante per attivare nuovamente la stabilizzazione come vedi l'inclinazione del piano di carico la fa in autonomia fa tutto da solo ma sul serio domino fa tutte queste cose e te l'avevo detto sembrano uguali ma non lo sono affatto eh sì quando l'ho comprato pensavo funzionasse lo stesso modo eh lo so ma come vedi non è così il nostro domino plasmoid è l'unico ad avere queste funzioni